Buonasera amiche e buonasera amici di Tregraminuti, bentrovati qui nel post partita Barcellona-Juventus appena terminata, euforia alle stelle, ma prima di partire per un commento insieme, mi raccomando come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanellina delle notifiche mettendo like al video così da rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti riguardanti la Juventus perché se siete tifosi della Juventus è sempre un piacere poter condividere insieme opinioni e commenti anche differenti. Bene, stasera è una serata fantastica, lo dico prima di partire e qualsiasi commento negativo o comunque volto a sminuire la prestazione della Juventus sarà da me bannato. No, scherzo, sapete che non banno nessuno, accetto qualsiasi tipo di commento, però ecco mi immagino già gli juventini incontentabili che avranno da ridire anche sulla vittoria di questa sera perché di fronte avevamo un Barcellona disastrato. Io mi aspetto questi commenti però siccome è giusto riconoscere meriti a chi ha ottenuto una prestazione e un risultato come quello di questa sera, quando abbiamo criticato la Juventus per la mancanza di gioco, per la mancanza di abnegazione, di tenacia, di determinazione, beh questa sera consentitemi di fare i complimenti vivissimi a Mr. Pirlo per un'impostazione di match davvero strepitosa, per l'interpretazione degli interpreti di campo davvero eccellente. La Juventus esce dal Camp Nou a mio modo di vedere con un qualcosa di più dei tre punti, qualcosa di più del primo posto conquistato nel girone, esce con un accrescimento dell'autostima, una consapevolezza della propria forza che è davvero da questa sera da considerarsi aumentata in maniera esponenziale. Non era facile perché la Juventus doveva vincere con almeno due gol di scarto segnandone tre, quindi o vinceva tre a zero o vinceva tre a uno o comunque, ripeto, segnando più di tre gol con almeno due gol di scarto rispetto a Barcellona per aggiudicarsi il primo posto nel girone e quindi le possibilità di pervenire al primo posto erano obiettivamente abbastanza esigue perché con tutti i difetti, con tutti i limiti che può avere il Barcellona di oggi, andare a vincere al Camp Nou per tre a zero o comunque con tre gol di scarto credo che non sia roba da tutti. La Juventus è riuscita, è riuscita con una prestazione davvero entusiasmante, trovo le prestazioni di McKennie davvero eccellenti, le prestazioni dello stesso quadrato, le prestazioni di tutta la difesa attenta di un grandissimo Buffon che per tutto l'arco dei 94 minuti ha incitato e guidato i compagni da dietro dando una grandissima sicurezza in ogni intervento che è stato chiamato a fare, soprattutto dalle conclusioni di Lionel Messi che ha perso il confronto con Cristiano Ronaldo che pur non ha giocato una grandissima partita ma comunque è autore di entrambi i rigori concessi alla Juventus. Molto generoso, onestamente l'avessero dato contro la Juventus e mi sarei tremendamente arrabbiato, quindi molto generoso il primo nonostante un'ingenuità da parte del difensore Blaugrana che ci disinteressa del pallone e tende a fare ostruzione su Cristiano Ronaldo e Netto Lampante il secondo che avrebbe anche meritato il secondo cartellino giallo per l'Engley già munito e quindi avrebbe costretto il Barcellona a giocare tutto il secondo tempo in 10. Non è stato necessario per la vittoria finale della Juventus, Juventus che si impone al Camp Nou giocando veramente una grandissima partita di personalità. Una partita intensa, ho visto veramente cose ottime di squadra e questo potrebbe essere un segnale che la vittoria al photo finish nel derby contro il Torino possa aver fatto scattare veramente qualcosa di importante nella testa dei giocatori. L'atteggiamento di questa sera è vero che davanti avevamo il Barcellona, è vero che eravamo in Champions League e non in campionato, è stato un atteggiamento di quelli da registrare e far rivedere ai ragazzi durante la settimana per mostrar loro come devono affrontare qualsiasi partita, campionato Champions senza differenze perché solo così puoi andare lontano, solo così ti puoi cavare delle grandissime soddisfazioni. Ultimo punto, ma non ultimo, a mio modo di vedere l'importanza in questa squadra di Morata si è palesata in tutto il suo splendore proprio questa sera perché è parso evidente come Alvaro Morata cambi la faccia e il volto della Juventus, dia quelle soluzioni alla Juventus che senza un giocatore come Morata non sarebbero possibili, ma consentitemi di dire che oggi Morata è un attaccante completo, totale ed è sicuramente uno dei primi attaccanti al mondo. Questa sera non ha segnato ma ha fatto un lavoro incredibile, ha consentito a tutti i compagni e di reparto e a tutti i centrocampisti di salire e di inserirsi giocando e distribuendo veramente sapienza calcistica ad altissimo livello. Complimenti a lui, complimenti alla Juventus tutta, questa sera godiamoci questa vittoria perché è una grandissima vittoria nonostante non avessimo al cospetto il più grande Barcellona, ma ripeto, vincere 3-0 al Camp Nou anche contro un Barcellona che non è sicuramente il miglior Barcellona, non è roba per tutti e obiettivamente non tutti ci riescono. Guarda caso c'è riuscita la Juventus, chiude prima il suo girone, evita la possibilità di incontrare squadre particolarmente pericolose come possono essere Bayern, Liverpool, Manchester City e quindi credo che al di là di tutto questo sia un'altra ulteriore grande notizia per il cammino europeo della Juventus. Ragazzi, che dire, io ho concluso, lasciate i vostri commenti qui sotto, mi raccomando, ma soprattutto non dimenticatevi di cliccare quel pulsantino iscriviti, iscrivetevi al mio canale, mettete like al video, ci vediamo ai prossimi 3 gran minuti e come sempre, Forza Juve! Iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like al video, seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!